Bene, benino, male. Il lungomare di San Girolamo è lungo e vario, viene da dire. Questa volta non ci riferiamo all'alternanza di scoglie e sabbia, ma alla pulizia. Questione che ha fatto andare su tutte le furie il sindaco De Caro, convinto che la pulizia del litorale, dovesse cominciare lunedì. In realtà solo un piccolo pezzetto era stato ripulito ieri, quando De Caro è tornato a San Girolamo. Sono arrabbiato con l'AMIU e con la cooperativa alla quale l'AMIU esternalizza il servizio di pulizia delle spiagge, perché da diversi giorni avevo chiesto un intervento. Stamane la cooperativa che fa la pulizia ordinaria per conto dell'AMIU era al lavoro. I lavori sono iniziati per fortuna stamattina, termineranno nel giro di due giorni. Il CDA dell'AMIU lo convoca comunque? Il CDA dell'AMIU l'ho già convocato perché voglio chiedere spiegazione, soprattutto voglio chiedere di modificare la convenzione che comunque noi come comune paghiamo all'AMIU, la convenzione con la cooperativa esterna. Il contratto con la cooperativa al momento prevede l'inizio della pulizia il primo giugno. Magari l'anno prossimo la temperatura sale ad aprile, non è necessario aspettare il primo giugno. Dobbiamo rimodulare il contratto tenendo conto che se è necessario anticipare la pulizia, andrà anticipata la pulizia.